La città metropolitana di Reggio Calabria ha preso parte alla giornata di festa e sensibilizzazione che si è svolta a Scilla, insieme a tantissimi giovani studenti che si sono ritrovati in Piazza San Rocco per vivere la cerimonia di consegna delle borracce multiuso nell'ambito del progetto Scilla Plastic Free. Il progetto è stato attivato su iniziativa dell'amministrazione comunale di Scilla al fine di promuovere la cultura della sostenibilità ambientale. L'evento è stato accompagnato da un concerto promosso dalla città metropolitana e dedicato proprio ai giovanissimi studenti delle scuole scillesi. Presenti il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il consigliere metropolitano con delega alla cultura Filippo Quartuccio sul palco della manifestazione accanto al sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone e alle rappresentanze del mondo della scuola e del comitato di quartiere. Noi siamo contenti oggi di aver organizzato questa manifestazione perché è l'esempio di come bisogna amministrare il proprio territorio. La sinergia tra amministrazione comunale, direzione didattica delle scuole e amministrazione della città metropolitana e chiudendo questo cerchio sicuramente si possono ottenere risultati importanti. Oggi l'abbiamo ottenuto nel mondo dell'ambiente, nel mondo dei ragazzi, dell'impegno nella società per rendere il paese più pulito. Scilla ne ha bisogno, abbiamo lavorato tanto per rendere pulito, per dare decoro alla città. Oggi ripartiamo dai ragazzi per fare un percorso importante e nuovo di crescita culturale e ambientale all'interno delle famiglie. È un obiettivo importante, ambizioso e partiamo da queste borracce togliendo la plastica di acciaio per dare un segnale di quello che bisogna fare. Il compito dei bambini sarà quello di spingere nelle proprie case, nelle proprie famiglie per far sì che si faccia la differenziata in modo corretto. Questo è un primo esempio di iniziativa sull'ambiente, ma nei confronti della scuola e dei ragazzi, dei nostri ragazzi, abbiamo sempre pensato che la cosa più importante è l'iniziativa dai concorsi per gli assistenti educativi, per i ragazzi che hanno handicap. Questo mondo per noi è importante e lo seguiamo, stiamo sul pezzo perché riteniamo che il futuro della nostra città passi dai nostri ragazzi. Scilla passo dopo passo sta recuperando il suo ruolo strategico nella città metropolitana grazie agli investimenti dell'amministrazione comunale sul campo turistico, sul campo culturale e da oggi anche nel campo sociale. La manifestazione Scilla Plastic Free che ha coinvolto e coinvolge tanti ragazzi nelle scuole medie, nelle scuole elementari e nelle scuole nell'infanzia grazie a un percorso condiviso con la dirigente scolastica, con il comitato di quartiere, è l'esempio di come le cose si possano fare bene se si fanno insieme. E noi come città metropolitana vogliamo stare accanto a Scilla per tutte quelle che sono le problematiche del territorio da risolvere, ma anche per stare accanto per quelli che sono i progetti di crescita di Scilla e della costa viola, nella piena consapevolezza che se cresce Scilla, cresce tutta la città metropolitana. Con la donazione della borraccia in acciaio da parte del comune di Scilla si determina sempre più quella che è la logica del Plastic Free che è un po' la logica che si sta perseguendo ormai da diverso tempo in diversi paesi dell'Unione Europea. Il ruolo della città metropolitana è importante perché la città metropolitana oggi siamo qui assieme al sindaco per, come dire, siglare un patto ulteriore con il comune di Scilla per entrare a far parte di questo processo di crescita e di sviluppo che inizia oggi, che è iniziato prima e che continuerà domani. E oggi ci siamo anche perché come città metropolitana abbiamo voluto fare da contorno a questa iniziativa donando un'attività di spettacolo, un'attività di animazione per questo territorio che lo merita. Lo merita il territorio, lo merita l'amministrazione, lo merita l'istituzione scolastica e quindi tutta la comunità educante lo meritano i genitori perché soprattutto dopo un periodo di Covid che purtroppo ancora stiamo vivendo dobbiamo ripartire e ripartiamo dalla cultura come del resto noi come città metropolitana abbiamo fatto durante tutta la stagione estiva, contribuendo alla crescita culturale e all'animazione nei nostri paesi e nei nostri borghi scommettendo su una serie di spettacoli e quindi scommettendo sui nostri artisti locali che hanno subito gli effetti più pesanti di questa crisi pandemica. Sono Daniela Panzera, dirigente dell'istituto comprensivo Piria di Scilla quest'oggi l'amministrazione comunale ci raduna la piazza centrale del paese per un'iniziativa molto importante che nasce dalla proposta del comitato di quartiere di Scilla Centro e coinvolge tutta la comunità scolastica si tratta di un progetto di educazione ambientale Scilla Plastic Free è il titolo che vuole combattere l'utilizzo di materiali non deteribili a partire da una buona pratica che questa mattina chiamo di diffondere tra i nostri piccoli e grandi alunni ovvero l'utilizzo di borracce in acciaio sostitutive della classica bottiglietta di plastica che troviamo in ordinanza negli zainetti dei nostri alunni questo ci consente di muovere un primo passo in tema di educazione ambientale di integrare i nostri percorsi di educazione civica iniziative formative e concorsi a tema saranno sviluppati all'interno di questo progetto che avrà respiro triennale quindi punta comunque di una continuità anche nell'immediato futuro per riuscire in qualche modo a contribuire non solo all'istruzione ma anche alla formazione e responsabilizzazione dei nostri alunni il futuro ci sta a cuore e dobbiamo cominciare a investire già nel presente